Oggi siamo qua su INSIDE Nello scorso episodio abbiamo fatto tutto un tragitto Andiamo subito a vedere E praticamente qua non possiamo passare Però noi abbiamo aperto questa porta Che non capisco assolutamente a che caspiterina ci serve Perché comunque non possiamo passare Quindi o c'è qualcosa da fare ancora qui con la personcina carina Se no niente da fare Perché allora Qui c'è la cordicella bella E posso capire E sta rianti Ok Però c'era mi ricordo qualche pulsante E' che appunto Qualche sì che noi abbiamo già aperto Ok E qua ci siamo andati mi ricordo E sì ci siamo andati qui Nello scorso episodio E va bene E ci sta Però Non so se andando più di qua No infatti Quindi non capisco cosa bisogna fare Ma quello è un pulsante È qualcosa di brutto lì dietro verde Non lo so Credo sia un pulsante Come tutti gli altri alberi E ok Quindi Noi facciamo così Praticamente ci fa volare E abbiamo capito Perché più di così Non possiamo fare niente E ok E siamo sopra Però poi Non c'è niente altro da fare Oltre a quello che abbiamo già fatto Nello scorso episodio A meno che non ci proviamo a lasciare No Ah no ok Oh raga Forse forse ho visto qualcosa lì sotto Forse forse Non lo so Forse troppo in basso Non ci passa Ok siamo morti Eh però Mi sa che quella è da sfondare Con il coso Ecco con questo Però noi non possiamo passare Non possiamo passare assolutamente Quindi Non so che cosa fa Non può saltare Sto tizio Non possiamo andare di là Ad esempio Però qua stiamo tornando Da dove siamo venuti O no No Lo so che siamo venuti da sola Appunto E io come faccio Ad andare tipo a saltare Yuppieee Uiii Cioè non ci posso assolutamente passare Raga Cioè qua ci devo Adesso ci rimango la notte Non lo so Perché non c'è Altro modo No Non morire Non morire Ok Cioè Non saprei Dobbiamo provare In qualche modo Ad andare sott'acqua Poi ovviamente Dopo un po' risalire Perché Sennò più muore Ovviamente In qualche modo Ci sarà Per andare avanti Ma io non lo capisco Mamma mia raga Non potete capire L'ho provato mille volte Bisognava saltare In questo modo Prepararsi E saltare così Ce l'ho provato Di tutti i colori Ragazzi Non riuscivo A capire Come cavolo Devevo fare L'ho provato In tutti i modi Ce l'ho fatta Mamma mia Potete capire Che strazzi Ok Finalmente Possiamo continuare Mamma mia Non ce la facevo più Guarda Adesso si apre Sì Ok Questi bottoni rossi Probabilmente Probabilmente Quel bottone rosso Ci servirà Se poco massicuro Perché è chiuso Qui anche Come dopo lo facciamo Non lo so Ah qua sotto No Ah qui Allora Sicuramente Dobbiamo fare qualcosa Allora Intanto Premiamo questo tastino Se si può Sì Ok E si sta passando L'acqua Spiglio sto robo Ok Non so per quanto tempo L'acqua sarà così bassa Cosa? Ok Ah ok Ovviamente Qui si apre Sì ma io credo Che come prima E appunto Mi serva Il 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 Odio Le cose A Tempo Guarda Le odio Da morire Ragazzi E no Però Aspettate Perché Conviene A questo punto Che ci portiamo Un attimino Questo qui Comunque Se sentite Dei rumori Scusate Ma C'è L'uomo In casa E Niente Quindi Un po' Di Casini Spero Ci sottano Per questo Episodio Allora Dai Oh dai Vai 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 No raga Secondo me Non ce la facciamo Che buco Eh Appunto C'è Come cavolo Fai C'è una fessura Quindi Probabilmente Ah no Ok Probabilmente Noi non dobbiamo Passare Da qui Ok Pensavo Cioè Pensavo Di Passarci Diciamo Ok Qui sotto Oltre a quel pulsante Non mi sembra Ci sia nient'altro Quindi Proviamo Riabbassare un attimino Riabbassare un attimo L'acqua Perché se no Non sa che cosa fare Ok Pensavo fosse una cosa a tempo Ma credo che a quanto pare Non sia così Perché proprio Non riusciamo Con i terpi A fare una cosa Come il genere A meno che Non dobbiamo fare Come prima Che mi hanno fatto Infazzire E facciamo Non così Da Ecco appunto Comunque ci avevamo Quasi fatta Vai 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 No Devo riuscire A centrare Qui La fessura Dai Niente Allora Dobbiamo un attimo Provare E andare Così Perché Se no Ah no Ok Insomma fosse aperto Sembrava aperto Vabbè Proviamo un attimo Magari moriamo Non lo so Però Ci possiamo provare Ah no Eh no Ok Siamo morti Ok No Comunque Una cosa Proprio a tempo E sinceramente Non saprei Proprio Come farla Guardate Non saprei Non ho Palesemente Idea Allora Ragazzi Guardateci Provo Un'ultima Volta Ma credo Che questa Volta Possa Funzionare Io Io credo Che se Se metto Il dirigibile Qui Cioè Il dirigibile Scusate Non sto dicendo Che dirigibile Sommergibile Qualsiasi cosa Sia E lo metto Qui Praticamente La cosa Dove Non poteva Passare In teoria È già Passato Quindi C'è già Passato In teoria Adesso Noi Poi Possiamo andare Con tutta calma Lì E passare Credo Vediamo se funziona Allora Quindi Un attimo Facciamo così Tac Ok E poi Passiamo Di lì Cioè Andiamo avanti In teoria Questa volta Dovrebbe funzionare Perché È questa parte Che il sommergibile Non passava Ma È già passato Ok È già passato Quindi ci sta Ok Cioè Siamo L'ora di distrazione Non potete capire Ci sto provando In mille modi Ok Ce l'ho fatta Credo che qua Dobbiamo solamente Sfondarla Esatto Ok Che merda è Che merda è Muori Raga Non so che cosa sia Raga Ma se io mi giro Lei Eccola No Non ci provare Sai Non ci provare Ho detto Oddio no Raga C'ho paura Allora Io Io giro La La luce Però chiudo gli occhi Ok Quindi non so cosa Possa succedere Secondo me entro Dentro il sommergibile Non so voi Secondo me Entro dentro il sommergibile Vado Io gli occhi chiusi Raga Ok Ecco Vedete Entra dentro Ok Quindi Dobbiamo stare Pienamente Attenuti Zia Calmati Io vado Per la mia strada Quando fa quel rumore Significa che sta Diciamo Per entrare Io voto per la mia strada Zia Tu vai per la tua Ok Ho detto Ok Non so come fare Che raga Provandoci un pochino Forse ho capito come fare Allora Quella ci guarda Se noi facciamo una cosa del genere No Ci prepariamo ad andare via Vai via Vai via Vai via Vai via Vai via Vai via Eh Lei c'è una porta Ok Dobbiamo Credo soltanto Continuare a fare così E forse Ce la facciamo Non ci seguire Eh Che non posso giocare così In zanta pace Ora dove devo andare Forse in alto Eh Oddio raga C'ho avuto una paura Non potete capire Stai lì eh Stai buona Spero che No E dai Dai però Eh Non ho il tempo Non ho il tempo Quindi Bisogna provarci qualche altra volta Credo Perché Non so Come fare Allora Praticamente Noi facciamo girare In manomore Non mi fa un Un coso Un buon Io abbasso Scusate Ma abbasso Ok 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 Non capisco cosa sia Sinceramente E per chi Voglio ammazzarci Cioè Non lo so Brava Allontanati Merdo Ho sbagliato E raga Se non accendi La santa luce E raga 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 ce l'ho fatta raga ce l'ho fatta ora non dovrebbe passare almeno spero quindi possiamo farlo in santa pace non sapete quanto cavolo di volte ci ho provato prima di pensare a questa roba perché in effetti così rimaniamo ho paura che ce ne sia un altro sinceramente di quei mostri orribili ok siamo scelti fuori ma anche se magari di preciso non so quanto durerà questo video visto che è una bella ora che sto registrando perché non capivo un sacco di pezzi come farli eccetera quindi non so quanto durerà potrebbe durare forse un po' di meno rispetto agli altri episodi ma mi dispiace ma ho avuto troppa paura quindi troppi enigmi che sinceramente sono difficili almeno per me perché ragazzi lasciate perdere gli enigmi io siamo due cose diverse quindi comunque io direi che possiamo fermarciare con questo episodio lasciate un mi piace commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti